Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere i più importanti eventi che caratterizzeranno questa settimana e anche parte della prossima. Si tratti di eventi che hanno a mio avviso un'importanza talmente grande che probabilmente caratterizzeranno l'intero mese. Voglio partire in ordine cronologico dal primo, andando a farvi vedere anche la pagina di investing sulla quale sarà possibile andare ad ottenere questo dato, che è l'indice dei prezzi al consumo, quindi l'inflazione, che verrà misurata negli Stati Uniti il giorno 13 di settembre. Quindi martedì 13 settembre, alle ore due e mezza italiane, verrà rilasciato il dato sull'inflazione americana. Attualmente possiamo già vedere come il dato previsto sia all'incirca dell'8,1%. Staremo a vedere se il dato attuale, cioè quello reale, quello che verrà rilasciato, sarà effettivamente in linea con le aspettative, ma soprattutto, ed è la cosa che tutti andranno ad osservare, sarà importante capire se è inferiore o meno al precedente dato riguardante l'inflazione americana, dato il 10 di agosto, che era pari all'8,5%, perché è molto importante. È fondamentale in quanto un dato che oggettivamente rispecchia le attese o che comunque è inferiore al dato di agosto andrebbe ulteriormente a rafforzare il fatto che con l'inflazione segnalata a luglio del 9,1% si sia toccato una sorta di top, una sorta di massimo dell'inflazione americana e di conseguenza andrebbe a dare un buon segno anche alla Fed americana andandogli a dire guarda che con quello che stai facendo, quindi con l'aumento dei tassi di interesse, effettivamente l'inflazione sta scendendo, sta tornando a livelli più accettabili. Quindi sarebbe un ottimo segnale ed è anche quello che i mercati per lo più si aspettano, proprio perché la previsione è già inferiore al dato precedente, quindi un eventuale dato superiore alle aspettative, quindi superiore all'8,1% o ancora peggio, superiore al dato precedente dell'8,5% potrebbe un po' sorprendere i mercati e magari colpirli anche a livello ribassista, ma a mio avviso ancora più importante non darebbe conferma dell'inversione di tendenza dell'inflazione americana, quindi questo è un dato estremamente importante da tenere in considerazione anche perché, come abbiamo più volte visto, qui lo si può osservare anche graficamente, che nel mese di luglio si è toccato questo top per poi scendere nel mese di agosto, staremo a vedere nel mese di settembre. Considerate che l'inflazione è attualmente il dato principale che la banca centrale americana continua a valutare al fine di decidere le proprie politiche monetarie e ovviamente le politiche monetarie americane vanno a influenzare anche quelle mondiali essendo il dollaro e l'America comunque la prima potenza mondiale e la prima valuta per importanza. Il secondo evento che a mio avviso ha un'importanza storica nel mondo delle criptovalute è il merge di Ethereum. Non mi sto a dilungare su come funziona, che cos'è, perché ho già fatto dei video riguardo, anzi ve li lascio qui in alto a destra, sia un video che ve lo spiega un pochino nel dettaglio, sia le migliori strategie per prepararsi e arrivarci veramente pronti, anzi magari cercare anche di sfruttare alcune inefficienze che si andranno a creare. Qui su questo sito whenmerge.com possiamo proprio vedere quando avverrà il merge. La data stimata del difficulty bomb, che è poi per l'appunto quando avverrà il merge, è il 14 di settembre alle 3.35, qui infatti dovete considerare il fatto che stiamo parlando di orario UTC e noi viviamo in UTC più 2, quindi probabilmente avverrà mentre tutti noi dormiamo alle 3 di notte, alle 3 e mezza di notte del 14 di settembre. Considerate che è una data comunque variabile, perché ovviamente il merge avviene ad un determinato block time e siccome il block time può variare leggermente, allora anche l'orario esatto può variare, però all'incirca diciamo 13-14 di settembre avverrà questo importantissimo aggiornamento che farà passare finalmente Ethereum dall'algoritmo di consenso Proof of Work a quello Proof of Stake. Il terzo evento riguarda MT Gox e i suoi creditori. Per dare un po' di storia, MT Gox è stato un exchange giapponese che era il più importante al mondo fino a quando è fallito nel 2014, per l'appunto. Il motivo del fallimento si deve addurre ad un attacco hacker, o almeno così venne giustificato, che portò alla perdita di 850.000 Bitcoin. Attualmente, siccome c'è stato un processo che è durato diversi anni e non è ancora terminato, tra l'altro, sono riusciti a tornare in possesso di circa 140.000 Bitcoin che quindi verranno restituiti a tutti coloro che detenevano i propri Bitcoin su questo exchange. E perché questo evento è importante? Cosa succede il 15 di settembre? Il 15 di settembre è molto probabile che sia il termine ultimo affinché i creditori di questo exchange, coloro i quali dovranno andare a ricevere una parziale ricompensa, dovranno effettivamente firmare delle carte e da quel momento in poi non sarà più possibile cambiare il piano di rimborso. Si tratta comunque un po' di speculazioni perché oggettivamente il documento che è rilasciato pubblicamente è stato questo e qui si può vedere questa start date, no? Settembre 15, ma non si capisce effettivamente di cosa si parli e andando a spulciare un po' su Twitter si può notare questo tweet di Eric Wall che lui dice guardate io sono un creditore di MT Gox e in realtà, questo l'ha scritto il 27 di agosto, non è ancora partito quasi nulla. Infatti, ah, in questo momento non abbiamo ancora avuto la possibilità nemmeno di specificare dove vorremmo andare a ricevere i nostri Bitcoin o Bitcoin Cash. Di conseguenza questo 15 di settembre più che altro rappresenta una sorta di data ultima per firmare e confermare il proprio piano di rimborso ma non è la data nella quale verranno effettivamente ripagati tutti i creditori. Perché comunque è importante segnalare questo evento? Da una parte perché purtroppo si crea anche un po' di food mediatica quindi un po' di dubbio, un po' di paura per cercare magari di forzare delle liquidazioni o di forzare comunque delle vendite e sfruttando quindi questo tipo di inefficienza di mercato, chiamiamolo in questo modo dall'altra perché comunque quando questo ripagamento avverrà anche se non è tuttora chiaro è possibile che molti utenti andranno quantomeno a vendere una parte di ciò che ricevono anche perché nel 2014 c'è da considerare che Bitcoin valeva probabilmente 1000-2000 dollari al massimo 1200 quindi anche se il prezzo di Bitcoin è calato drasticamente dal suo all time high di novembre 2021 si tratta comunque di oltre un 10x per chi possedeva i Bitcoin sull'exchange di Mt. Gox. Il mio personale parere su questa notizia è che in realtà sia una notizia più che altro mediatica, più che reale e fondamentale proprio perché il 15 di settembre innanzitutto non avverrà il pagamento reale e quindi anche dovesse esserci questo sell-off di tutti i rimborsi comunque non avverrà il 15 di settembre perché non avviene il rimborso in questa data. Inoltre credo che la notizia venga pompata mediaticamente proprio per questioni di speculazione e non di reali fondamenta quindi non sono così fiducioso sul fatto che effettivamente il rimborso di questi utenti andrà ad impattare così tanto il prezzo di Bitcoin. Altro evento importantissimo, il 21 di settembre verrà deciso nuovamente il tasso di interesse dei fondi della Fed Chiaramente si intende il tasso di interesse sui depositi a breve termine presso la banca centrale che attualmente è del 2,50% e appunto se possiamo scendere vediamo come il 21 settembre alle ore 8 italiane verrà annunciato il nuovo tasso. Chiaramente molti si aspettano una crescita che possa essere da 50-75 punti base portandolo quindi dal 2,50% o al 3% e segnerebbe una crescita del 50 punti base oppure 3,25 segnandolo di conseguenza di 75 punti base Considerate che pochi giorni prima di questo dato qui su investing.com verrà messo anche il tasto previsto da parte del mercato cioè ciò che il mercato si aspetta e chiaramente nel momento in cui poi uscirà il dato reale comparirà nella colonna attuale anche qui chiaramente dipenderà in maniera importante il dato che vi dicevo come principale all'inizio cioè il dato sull'inflazione americana perché? Perché se l'inflazione americana dovesse effettivamente placarsi e quindi dall'8,5% scendere potrebbe accadere che la Fed invece di alzarli di 75 punti base li alzi solamente tra virgolette di 50 punti base ad ogni modo questo lo andremo a vedere il 21 di settembre perché questo è importante? Tenete conto che più i tassi di interesse della Fed sono alti più chiaramente si incentiva la moneta fiat che sta al di sotto quindi in questo caso il dollaro perché? Perché più diventano alti questi tipi di interessi questi tipi di ritorni sul proprio investimento considerando il fatto che si tratta di uno degli investimenti più sicuri al mondo visto che c'è come backing gli Stati Uniti d'America fondamentalmente allora è ovvio che se questo comincia a salire tanto le persone e i fondi o comunque chiunque è intenzionato a convertire la propria valuta locale in dollari proprio per andare a ottenere questo tipo di ritorni che sono ritorni, ripeto, estremamente a basso rischio vi voglio lasciare in descrizione questo articolo che secondo me in maniera piuttosto semplice spiega perché, almeno a livello teorico il tasso di interesse e quindi l'aumento dei tassi di interesse è uno strumento in mano alla banca centrale per contrastare l'inflazione e qui secondo me viene spiegato molto bene proprio in queste poche parole in particolare proprio bastano questi piccoli due paragrafi come può una banca centrale contrastare l'inflazione in crescita alzando i tassi di interesse ossia aumentando il costo del denaro per scoraggiare l'accesso al credito scoraggiare l'accesso al credito e in questo modo l'inflazione tende a diminuire perché? perché se ovviamente aumenta il costo del denaro cosa vuol dire che aumenta il costo del denaro? vuol dire che è più costoso prendere in prestito dei soldi di conseguenza le banche commerciali che poi sono quelle che fanno i mutui alla persona trasferiscono l'aumento di queste tariffe ai clienti clienti che quindi vedranno per esempio le tasse dei loro mutui più alte e tutte queste cose qui cioè l'accesso al credito proprio diventa più costoso e quindi questo incentiva le persone è proprio scritto qui al risparmio dato che è troppo costoso prendere in prestito soldi per comprare dei beni a questo punto non si prendono in prestito e si risparmia questo dovrebbe anche poi motivare le aziende a aumentare i prezzi lentamente o addirittura a non aumentarli per stimolare la domanda perché chiaramente se le persone non sono più incentivate a fare prestiti per comprare beni o ne comprano meno oppure semplicemente non li comprano le aziende per motivarli all'acquisto o mantengono i prezzi più bassi o comunque non continuano ad aumentarli quindi capite che a livello teorico l'aumento dei tassi di interesse quindi rendere più alto il costo del denaro cioè rendere più difficile per delle persone per delle famiglie prendere dei prestiti quindi prendere dei mutui per la casa per l'auto per un bene incentiva ovviamente le persone al risparmio e questo porta le aziende quindi a non aumentare i prezzi e di conseguenza appunto a abbassare o a tenere sotto controllo l'inflazione torniamo a parlare di un tema più legato al mondo delle criptovalute nel particolare di Cardano perché? perché a settembre avverrà anche il Vasil Upgrade che è un aggiornamento fondamentale per quanto riguarda la blockchain di Cardano è probabilmente uno degli aggiornamenti che dopo Alonso dell'anno scorso segna di più questo tipo di blockchain con Alonso sì che è scritto in questo modo avevano introdotto la possibilità di sviluppare in maniera permissionless degli smart contract utilizzando il linguaggio di scrittura Plutus che è differente dal classico Solidity su Ethereum attualmente con l'arrivo di questo aggiornamento Vasil andranno ad ottimizzare in maniera importante tutta la blockchain quindi è un aggiornamento che si focalizza sull'aumento della scalabilità lo possiamo vedere proprio in queste piccole righe dove viene detto che verranno aumentate le performance andando ad aumentare il throughput l'efficienza del linguaggio di scripting e si ridurrà la latenza della trasmissione dei blocchi quindi proprio questo aggiornamento è un aggiornamento di potenza cioè renderà più potente renderà più scalabile l'intera blockchain avverrà entro la fine di settembre devono solo avvenire alcune precondizioni precondizioni che leggiamo qui sono tre ossia il 75% dei validatori deve aver aggiornato il proprio nodo e questo già è stato raggiunto almeno 25 exchange devono aggiornare i loro nodi per supportare l'upgrade e anche qui vedremo che è quasi raggiunto anche questo obiettivo per intenderci Binance è già pronto Crypto.com sta per essere pronto Kraken pure terzo punto le principali 10 applicazioni decentralizzate su Cardano dovranno aver confermato di aver testato il loro codice per questo aggiornamento e anche qui lo vediamo scritto proprio alla fine qui c'è l'elenco degli exchange e in fondo c'è l'elenco delle applicazioni che vedete alcune sono già in green le altre sono in fase di testing che quindi vuol dire che finirà a breve vi faccio vedere che su DeFi Yama c'è la chain di Cardano il TVL è estremamente basso perché comunque Cardano attualmente non è una delle chain più utilizzate anzi Anzard Ray il fatto che è ancora veramente poco utilizzate quindi sono io stesso molto curioso di vedere se questo aggiornamento finalmente lancerà questa blockchain e magari prenderà un utilizzo reale anche da parte degli utenti questi qui comunque sono le applicazioni più importanti che al momento risiedono su Cardano infine vi voglio lasciare con una notizia relativa al vecchio ecosistema Terra Classic personalmente è un ecosistema che non sto più seguendo molto ma me l'avete comunicato in tanti è arrivata questa proposal di inserire questo 1,2% di tax burn ossia ad ogni transazione on chain verrà applicato una tassa dell'1,2% che verrà preso e bruciato quindi per ridurre la supply dei LUNC personalmente non sono più molto all'interno di questo ecosistema quindi non so neanche bene come si sta muovendo che cosa stanno facendo le applicazioni e qual è effettivamente l'utilizzo che gli utenti ne fanno di queste applicazioni e di questa chain io ormai la vedo un po' una community nello stile delle meme coin e con questo non voglio offendere le persone che credono in questo progetto semplicemente intendo dire che è diventata un po' nello stile da pump and dump abbiamo visto che ha busto un pump gigantesco qualche giorno fa per poi insomma tornare a perdere delle percentuali importanti ad ogni modo vedremo se questa tassa porterà un beneficio alla chain oppure no la proposal la possiamo vedere qui direi che è passata quasi all'unanimità finisce in realtà fra 4 giorni quindi ancora ci potrebbe essere la possibilità che venga contestata però stiamo parlando veramente di un 96% delle persone che hanno già votato e un 99,98% di persone che hanno votato sì quindi direi che passerà categoricamente e gli exchange più importanti quindi tipo Binance anche KuCoin hanno già confermato che andranno a utilizzare andranno ad aderire ovviamente a questa proposal nel caso in cui passerà detto questo ragazzi spero che il video vi sia piaciuto spero che abbiate apprezzato questo resoconto delle notizie degli eventi più importanti che segneranno io posso dire anche tutto il mese di settembre vi chiedo di lasciare un bel mi piace se avete apprezzato il video iscrivetevi fatemi sapere qua nei commenti qualche altra notizia che secondo voi ha rilievo io vi saluto, vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi